La Turchia si conferma la bestia nera dell'Italvolley Donne. A Bruxelles le ragazze di Davide Mazzanti perdono per la prima volta dopo 7 risultati utili consecutivi in semipinale per 3 a 2. L'inizio era stato d'inaugurante per le Azzurre, tanto da poter condurre in scioltezza il primo set vinto facilmente 25-18. Dal secondo in poi comincia la riscorsa turca, che soprattutto con Kara Turk e Baladin danno il meglio, costringendo ad una rincorsa punto punto la nazionale Azzurra, che per la prima volta cede il set alle avversarie 23-25. Mazzanti cerca di far tornare le ragazze al miglior gioco che le aveva contraddistinte nella prima parte del mondiale ed infatti il cambio di situazione psicologica è favorevole, tant'è che la Turchia sbaglia moltissimo e l'Italia vince 25-15, conteggio 7-2-1. Nel quarto la nazionale Azzurra dilapida un vantaggio di 4 punti, facendo tornare il risultato in parità 2-2, 25-22 Turchia. Quinto parziale con una Vargas fenomenale, l'Italia si arrende troppo presto e spuma il sogno della finale. Ci si dovrà accontentare della finale per il bronzo, domenica 3 settembre alle 16.30 contro l'Olanda.